Benvenuti, benvenuti Benvenuti a tutti, Obeia oggi ha scelto un luogo che potrebbe sembrare non una grande stanza, ma una stanza che ha un grande valore, siamo nella stanza ottagonale, siamo all'interno di quello che è l'headquarter, insomma il quartier generale della Granarolo, qui a Bologna, siamo con il Presidente Gianpiero Calzone che intanto saluto e ringrazio subito. Benvenuti a tutti voi. Abbiamo scelto questa sala ottagonale perché ho capito Presidente che qui firme importanti sono state siglate nella storia di Granarolo. Sì, questa noi l'abbiamo chiamata nella ristrutturazione sala ottagonale, in realtà perché ospita il tavolo ottagonale che era ancora nella vecchia sede, che è un po' il tavolo dove sono stati firmati alcuni degli accordi più importanti, e non ultimo l'Iomo che è sicuramente una questione importante, probabilmente anche la centrale del latte di Milano e poi una serie di altre acquisizioni, quindi quando viene il notaio che dobbiamo firmare qualcosa, scaramanticamente si viene qua. E quindi abbiamo deciso di produrre il nostro baia qui. Allora, Presidente, la domanda è un po' semplice forse, però, come dire, corposa e intensa. Dove stiamo andando, nel senso, con questi costi, con questa situazione così particolare? Voi avete da subito, mesi fa, denunciato, tra l'altro insieme anche ad una vostra concorrente, non era mai successo, nella storia, dicendo signori, fermate qualcosa, fermate la macchina, altrimenti il latte potrebbe arrivare ad una soglia mai vista che è di 2 euro. Cosa sta succedendo? Cos'è successo? Diciamo, la macchina non è stata fermata, quindi in realtà i costi sono aumentati davvero tutti, ma quando si dice tutti, tutti quanti, davvero, perché le materie prime, sia quelle di origine agricola, ma anche quelle poi per il packaging, fino ad arrivare ovviamente al dramma, perché va definito tale dell'energia che ha completamente messo in discussione tutti i nostri equilibri, tutto è aumentato e in queste ultime settimane, annunciato da tempo, sta arrivando l'aumento del costo del denaro che avrà ulteriori ricadute molto pesanti un po' su tutta l'industria di trasformazione. Poi sicuramente ci saranno dei settori che soffrono di più, settori che soffrono di meno, però è un dato oggettivo. Noi eravamo partiti proprio tempo fa con un'iniziativa sicuramente che ha fatto molto scalpore. Noi e l'Actaris, quindi due competitor per definizione sul mercato nazionale, abbiamo detto ai nostri stakeholder, la catena di distribuzione, la politica, attenzione che qui le cose stanno andando talmente velocemente verso l'alto che sicuramente accadrà qualcosa che non è mai accaduto, il latte comincerà ad avere dei costi importanti. Poi ridimensioniamo anche il concetto, con 2 euro si compra tanta roba, si compra un potere nutrizionale molto importante, quindi bisogna anche ripensare un po' alla cultura del cibo, alla cultura delle priorità, però sicuramente ha ricaduto, tutto questo va anche su tutto il trasformato. Altri settori non sono diversi dai nostri, quindi siamo di fronte a un'inflazione che ha dei numeri molto importanti. Per quanto riguarda il nostro gruppo, noi abbiamo un gruppo che mediamente, il Covid ha ovviamente alterato un po' tutti i riferimenti, però noi siamo un gruppo da un miliardo e tre di fatturato, chiuderemo quest'anno oltre a un miliardo e cinquecento milioni di fatturato, ma tutto è effetto inflattivo, quindi sono più di 200 milioni di inflazione nel 2022 e sarà un altro centinaio di milioni nel 2023. Lo dico perché i numeri fanno più effetto che le percentuali, però con chi è a fare i conti vi rendete conto che l'inflazione... Vuol dire più fatturato ma marginalità inferiore. Esatto, quindi con un'inflazione che è di gran lunga superiore a quella di cui si parla sulle statistiche, la statistica come noto si fa è una mediana, quello succede che noi non possiamo neanche completamente ribaltarli sulla catena distributiva e sul consumatore perché poi sappiamo anche le difficoltà di questo consumatore, quindi non è che possiamo pensare che tutto automaticamente si può riversare, perché perderemo consumi e perderemo una parte altrettanto importante, i nostri clienti, quindi veramente un momento particolarmente difficile. Inizialmente però voi avete tentato di assorbire queste cose e anche adesso non è che le avete completamente ribaltate? Inizialmente la filiera agricola, la filiera agricola agroindustriale li ha assorbiti quasi per intero, poi da un certo metà, diciamo poco, sì, diciamo metà dell'anno forse all'inizio di giugno, nessuno non riusciva più a tenerli, i costi aumentati e quindi abbiamo cominciato a ribaltare in parte la sua gran distribuzione. Noi li abbiamo ribaltati completamente per cui abbiamo ridotto molto i nostri margini per tenere in piedi comunque la nostra struttura, sicuramente neppure la gran distribuzione ha ribaltato interamente gli aumenti che sono arrivati dai fornitori e quindi a questo punto anche la gran distribuzione è oggettivamente in difficoltà e poi sappiamo che sono difficoltà ai consumatori, soprattutto nelle fasce più deboli, le famiglie numerose, insomma chi ha dei redditi monoreddito, insomma ci sono oggettivamente difficoltà anche nel settore dell'approvvigionamento del cibo che notoriamente non è mai stato un problema per i consumi, nel senso che si ritiene che una quota che può variare dal 13 al 14 al 15% del budget familiare vada riversato sul cibo, quindi non è la cifra che poteva creare tanta preoccupazione. Oggi anche questa destra molta preoccupazione perché oltre al gasolio, al gas, alla benzina, all'energia elettrica, le utenze varie, oggi anche il cibo oggettivamente ha preso un peso importante. Presidente ricordiamo, parliamo di riconsumatori, però come dire, tra i consumatori granarolo e poi sono gli allevatori che in questo momento sono in grandi difficoltà anche loro. Ecco noi abbiamo scelto proprio fra i primi, che sono i soci diciamo di granarolo di pasta. Esatto, in virtù anche di questa natura noi siamo come noto una società posseduta da una cooperativa di allevatori, quindi è un'articolazione societaria, però il principio è che tutto questo impianto ha come obiettivo di valorizzare in un giusto modo il conferimento dei soci. Siamo stati i primi a prendere atto di questa situazione di difficoltà dei nostri allevatori dovuto a che cosa? dovuto al fatto che da un lato non arrivavano più gli alimenti per gli animali per l'effetto della guerra da un certo punto, ma anche già da prima per l'effetto di un assorbimento dei flussi da parte di realtà come la Cina che stavano assorbendo molta soia, molto mais, poi c'è stata la guerra ovviamente che ha bloccato i porti, come sappiamo, quindi in Italia e in Europa non arrivavano più mais, soia in misura adeguata, quella che arrivava a dei costi molto alti, poi ci si è messa anche la siccità, per cui quest'anno abbiamo anche registrato un'anomalia, una siccità mai vista in queste dimensioni negli anni scorsi, per cui i nostri allevatori nella pianura padana hanno visto calare di un 20, 25, qualche volta anche di un 30% l'autoprovvigionamento, quindi avevano dei costi, hanno dei costi che non potevano più reggere, quindi noi abbiamo deciso di alzare il prezzo dell'arte ai nostri soci e poi di andare a cercare di recuperarli, normalmente si cerca di muoversi diversamente, ma non avessimo fatto quella scelta, quella data, nel mese di marzo, aprile, i nostri soci e come noi anche gli allevatori non sono i nostri soci, avrebbero avuto una grossa difficoltà. Un momento importante ricordiamo, da 39 al 60 è giusto il costo di... In due step, diciamo, dopo di noi abbiamo in qualche modo inevitabilmente anche il resto dell'industria, che era molto riottosa a riconoscere questi aumenti, ha ritenuto di doverlo fare, perché rappresentando noi una quota importante del latte abbiamo creato anche un precedente importante e poi si è iniziata una negoziazione e oggi siamo in una situazione dove rispetto alla stessa data dell'anno scorso il latte costa il 50% in più, l'anno scorso costava circa 39,40, oggi a dicembre viene pagato 60 centesimi. Allora, in questo periodo, quindi avete capito, una pandemia, la guerra e il tema dell'inflazione, però in questi anni comunque voi siete cresciuti acquisendo delle realtà, non solo in Italia ma anche all'estero, andando a cercare, potremmo dire, quelle aziende che, come dire, mantengono il latte come un alimento principe e poi il formato, penso a Gorazola viene in mente una cosa, è così? Sì, noi abbiamo, in particolare nell'ultimo periodo, focalizzato molto l'obiettivo latte, perché i nostri soci il latte lo producono e hanno bisogno di produrlo in quantità importanti per compensare o per rendere possibili gli investimenti che sono la premessa per la continuità aziendale. Spiego meglio, un allevatore, se ritiene che nella propria azienda il figlio debba rimanere, deve creare le condizioni economiche per un nuovo nucleo familiare, che traga reddito da quell'attività e soprattutto oggi deve creare le condizioni economiche per poterle fare innovazione, perché un giovane oggi che vuole lavorare in agricoltura si aspetta giustamente di poterlo fare utilizzando tutta l'innovazione che fortunatamente il sistema anche della ricerca sta mettendo a disposizione, pensiamo le macchine 4.0 che lavorano in campagna, i robot nelle stalle, quindi hanno bisogno di produrre più latte, se loro hanno bisogno di produrre più latte il nostro compito come cooperativa è di collocare quel latte nel migliore dei modi, quindi dobbiamo crescere di volumi e di fatturato, ma soprattutto di volumi. Per fare questo in parte con linee interne, quindi innovando, mettendo sul mercato nuovi prodotti, ma più probabilmente, più efficacemente comprando aziende che abbiano bisogno di latte e che possono metterci a disposizione dei prodotti, magari che non stanno solo nel mercato nazionale, per cui che possono anche andare su mercati internazionali che è il vero mercato di sbocco, perché quando in questo momento c'è una situazione di questo tipo, il mercato locale, il mercato nazionale è molto saturo e molto competitivo e c'è una disperata ricerca di collocare il prodotto anche prezzi a volte sotto i costi di produzione. L'opportunità è rappresentata dall'estero e andare all'estero significa andarci con dei prodotti che ovviamente i mercati europei e non solo europei possono apprezzare, quindi prodotti con una vita considerevole che abbiano una caratterizzazione molto italiana. da qui, un'acquisizione che abbiamo fatto nell'anno scorso che era il gorgonzola, per esempio un prodotto che non è così importante come il parmigiano o il grana padano, ma ha un'importante trend di crescita anche nel mercato internazionale. Il consorzio lì ha lavorato veramente molto bene, quindi abbiamo comprato un'azienda che si occupa di trasformare il latte in gorgonzola e più recentemente abbiamo comprato uno stabilimento nel Lazio che produce mozzarella dell'agropontino. L'agropontino ha una caratterizzazione, diciamo così, sul mercato romano e non solo di mozzarella molto apprezzate e che questa azienda in parte copriva e che noi possiamo ulteriormente implementare con il latte dei nostri allevatori, che noi come sapete abbiamo allevatori un po' in tutte le regioni e così via. Insomma abbiamo comprato l'anno scorso un'azienda negli Stati Uniti, Calabro, che per noi sarà la piattaforma, si sta trasformando nella piattaforma per importare in quel paese, ovviamente produrre e vendere prodotti freschi, ma importare negli Stati Uniti tutte le nostre principali DOP. La Francia è il paese che ci dà più soddisfazione in questo momento, però seguono anche tanti altri paesi. Noi siamo orientati ad avere almeno un 50% della nostra produzione fatturata all'estero perché è la soluzione vera dei problemi nazionali, insomma non possiamo pensare a un mercato dove il consumo nazionale è in calo, perché oggi è oggettivamente così, di calare le produzioni perché innescheremo dei percorsi negativi lungo tutta la filiera. Certo non è facile pensare in questi termini sapendo che abbiamo i problemi che tutti noi conosciamo, però la sfida è un pochino quella, gestire la crisi ma guardare anche oltre la crisi perché come tutte le crisi noi confidiamo, è sempre stato così, sarà così anche questa volta, che poi le crisi si evolvono in qualche modo, se ne viene fuori e bisogna essere pronti per cogliere anche le opportunità che ci saranno quando usciremo dalla crisi. Presidente, diciamo lo spirito da cooperatori, di cooperazione aiuta in questi momenti? Beh guarda, io penso che sempre quando aumentano le difficoltà si percepisce sempre più il valore dello strumento cooperativo, perché la cooperazione di fatto, la semplifica un po', consente di fare in tanti quello che da solo non riusciresti a fare e quindi oggi un allevatore in questo caso, ma potrebbe essere lo stesso ragionamento per gli altri prodotti, da solo avrebbe di fronte delle montagne enormi da scavalcare, in compagnia di tanti altri colleghi riesce per esempio ad affrontare il mercato, riesce ad affrontare la collocazione attraverso le fabbriche, le industrie della trasformazione di proprietà, il mercato estero, diversamente sarebbe un fornitore come tanti e quindi con un potere negoziale anche molto scarso. Questo ragionamento vale dal punto di vista economico, però vale anche molto in questo momento, perché noi siamo tutti chiamati, nonostante la crisi, nonostante la carenza di liquidità, nonostante i drammi che stiamo vivendo, però sappiamo anche che dobbiamo volgere un po' la nostra attività antropica, l'attività economica verso principi di sostenibilità ambientale, economica, sociale, ma ambientale. Pensate a un allevatore che da solo debba affrontare la conversione sostenibile della propria azienda, è una cosa enorme, insieme stiamo cercando di fare dei percorsi, stiamo facendo dei percorsi molto importanti, uno per tutti è quello del benessere animale, il primo da cui siamo partiti, abbiamo messo a punto disciplinare, abbiamo lavorato insieme ai nostri soci per vedere quali erano i punti da migliorare nelle singole aziende, stiamo vedendo insomma che i risultati stanno venendo, allo stesso modo sulle emissioni, allo stesso modo sulla riduzione del consumo di acqua, sull'automazione, sulla meccanizzazione, possiamo muoverci come un gruppo, diciamo con una massa anche, oltre che di disponibilità e di necessità anche di competenze, perché abbiamo aziende nel nord, abbiamo aziende nel sud, grandi aziende, piccole aziende, aziende che producono latte biologico, aziende che producono latte per la caseificazione, aziende che producono latte per la trasformazione industriale, insomma abbiamo tante competenze messe a sistema, possono aiutarci a fare quella fatica in più, sentendolo un pochino meno il peso. Quindi diciamo che dietro quella bottiglia di latte semplice che andiamo ad acquistare, c'è dietro tutto un lavoro, una strategia, anche sul tema della sostenibilità, penso al biometano, in questo momento voi avete investito molto con un'azienda in particolare, ma state creando anche delle situazioni di cooperazione con Sortili, per dare a tutti la possibilità di trasformare in energia le deiezioni degli animali, per esempio. Sì, adesso ricordiamoci che all'inizio del secolo scorso l'energia di un'azienda agricola era la fatica degli uomini e la fatica degli animali, non c'erano molte altre alternative e oggi noi dobbiamo ripristinare un po' quella circolarità, tutto stava in azienda, tutto rimaneva, oggi per fortuna non rimane tutto in azienda, gli approvvigionamenti però quando arrivano, come è il caso dell'energia, sono molto costosi, per di più se non utilizziamo correttamente, in questo caso le deiezioni animali, dove abbiamo aziende con dimensioni anche considerevoli, creiamo un problema ambientale, le deiezioni possono creare un problema sia diciamo come emissioni in atmosfera, ma anche sulla falda, in realtà oggi come oggi ci rendiamo conto più che mai che sono una grande risorsa, perché adeguatamente lavorate queste deiezioni diventano energia, quindi molti dei nostri elevatori hanno già impianti di biogas e oggi abbiamo iniziato, ne abbiamo inaugurato uno qualche giorno fa, ne inaugureremo uno fra poco, due impianti di biometano. Biometano ovviamente è un salto tecnologico ulteriore che consente di mettere energia proprio metano nella rete. Ne vorremmo costruire una decina, però non tutti hanno dimensioni che possono, aziendali che possono giustificare un investimento di quella portata, perché stiamo parlando di milioni. Allora l'idea è di proporre degli impianti consortili, ci siamo avvarsi, ci stiamo avvallendo della collaborazione di un soggetto a noi molto vicino, che è l'Associazione Nazionale dei Bieticultori, che anni fa hanno intrapreso la strada del biometano e hanno già realizzato numerosi impianti di biometano, di biogas, e poi di biometano. Quindi cosa abbiamo? Un partner che è un agricoltore come noi, quindi non devono venderci delle tecnologie, perché sapete che se no sono tutti bravi a vendere il loro prodotto, che hanno già testato cosa funziona e cosa non funziona e che ci propongono di fare almeno a noi, insieme a noi, una decina di impianti. Se riusciamo a fare una decina di impianti in un angasso di tempo ragionevole, non avremo più bisogno di metano e di energia fossile. Ovviamente dovremmo pagare quell'energia ai nostri allevatori che la produrranno, però dal punto di vista delle emissioni in atmosfera della CO2, e non solo della CO2, capite bene che è tanta roba, come si dice. Per di più quegli impianti producono un digestato, che significa la possibilità di cancellare o ridurre in modo importante il ricorso alla chimica per la consumazione dei terreni. Quindi, come vedete, ritorniamo al secolo scorso, quando tutto rimaneva in azienda, in modo virtuoso, anziché creare problemi. È un progetto ambizioso che possiamo fare perché siamo una filiera cooperativa. Se fossimo un compratore di latte, non potremmo arrivare alla stalla dei fornitori. E soprattutto riusciamo in questo modo, il modello cooperativo consortile, a consentire un'esperienza del genere anche magari allevatori che non hanno le dimensioni così importanti. E anche la capacità di cese, perché tutto quello di cui stiamo parlando richiede denaro. PNRR ne mette a disposizione per il biometale, questa è già una cosa importante. Poi abbiamo il bisogno finanziario, quindi non è una cosa banale, però questo è un progetto che a noi sta piacendo modo. Poi noi stiamo facendo uno di fianco, che può sembrare molto meno importante, sicuramente non è così dirompente, che sono le api. Voi sapete che le api sono un indicatore ambientale importante, le sentinelle. E soprattutto la presenza delle api consente quel miracolo dell'impollinazione che consente poi l'agricoltura di proseguire. E quindi cosa stiamo facendo? Ogni nostra stalla da qui a qualche anno dovrà avere almeno due alveari. Lo stiamo facendo anche qui, lo stiamo mettendo a punto in collaborazione con un'altra esperienza cooperativa, che è la cooperativa con api, che è una forse la più importante in realtà cooperativa, che si occupa di api. Sempre in questo territorio? Sempre in questo territorio, che ci aiuteranno, essendo poi anche loro un po' come noi distribuiti in realtà, nati qui, ma poi distribuiti ormai in tutto il territorio nazionale, presideranno un pochino anche la formazione, aiuteranno i nostri elevatori a fare le scelte migliori, perché se vogliamo tenere le api ovviamente dobbiamo ottenere anche i terreni coltivati in un certo modo, molto rispettoso anche dal punto di vista della vita di questi piccoli animali. Noi abbiamo una mandria di circa 60.000 vacche in produzione, avremo altrettante migliaia di api che lavoreranno ovviamente per produrre molto meno in termini di volumi, però altrettanto importante per l'equilibrio aziendale e l'equilibrio ambientale. Sono due cose molto diverse apparentemente, però vanno tutte nella stessa direzione e aprono anche una riflessione con il consumatore, ma dobbiamo avere un consumatore che si possa mettere nelle condizioni di scegliere un gesto sostenibile, anche un acquisto sostenibile. Nella quotidianità, quando compra un chilo di pasta, un litro di latte o un barattolo di pasta di pomodoro, può scegliere sapendolo che in un caso dà una mano all'ambiente, in un altro caso non dico che non dà una mano all'ambiente, ma non ha altrettante informazioni, quindi chiediamo poi anche al consumatore di seguirci. Abbiamo una fortuna che abbiamo un brand che è conosciuto e diciamo pure ben voluto, ha una grande reputazione nelle famiglie, abbiamo milioni di consumatori un po' distribuiti in tutta Italia che ci conoscono come una filiera con una reputazione molto importante e tutte queste cose ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo della riduzione del 30% di CO2 in atmosfera da qui a 2030. Se le cose prendono questa piega forse potremmo anche anticipare un po'. Poi dall'altra parte dobbiamo fare scelte invece più industriali, togliamo la plastica dalla bottiglia, avete visto che recentemente abbiamo introdotto un tappo molto più basso, qualche consumatore sta brontolando un po' perché trova che fosse più comodo quello di prima, sì, però l'ambiente dobbiamo, siccome basta fare un sforzo piccolissimo ci abitueremo tutti quanti, però riduciamo la plastica del 30% in questo modo, abbiamo tolto la plastica dai basetti dello yogurt, quindi non più plastica ma carta e così via, industria e filiera. Scelta importante dice lei, quindi anche la scelta del consumatore deve essere una scelta consapevole, ovviamente più orientata. Alcuni anni fa avete anche iniziato, dove la crisi mordeva meno, però questo concetto dello spaccio granarolo, cioè di trovare dei punti vostri dove trovare i vostri prodotti anche in questo caso forse con una caratteristica, cioè aiutando il consumatore a capire che un prodotto che sta per scadere è sempre buono, l'azienda te lo dà magari a un costo inferiore, il prodotto è buono e in questo momento sono rivelati anche questi vincenti, probabilmente la gente si rivolge a questi strumenti. Questo è un progetto di cui noi siamo molto contenti perché tanto è in assoluta coerenza anche con le sollecitazioni, penso alla comunità europea che invita tutti a ridurre lo spreco e quindi siccome le date sono importanti e giustamente il consumatore si preoccupa delle scadenze e quant'altro, la grande distribuzione altrettanto perde meccanismi a volte di incongruenza, si possono creare degli stock di prodotto che hanno una vita tra virgolette breve, non breve al punto da non essere possibile consumarli, ma che magari non potrebbero intraprendere il percorso verso la grande distribuzione, rimanere in cella a frigo perché poi passano i giorni e andare magari sullo scaffale troppo tardi. A quel punto lì ci siamo inventati questo meccanismo degli spacci che da un lato appunto ci consente di evitare, io lo chiamo un crimine etico che è lo spreco, perché veramente noi non ce lo possiamo, il mondo non si può permettere di sprecare quando c'è una parte crescente del mondo che è in carenza per di più e dall'altro diamo una mano al consumatore, penso un consumatore con una famiglia numerosa che può venire nei nostri punti vendita, nei nostri spacci e fare una provvista di prodotti di ottima qualità con una vita adeguata ai propri ritmi, al proprio consumo domestico risparmiando cifre importanti e quindi diamo alcuna mano a, in questo caso famiglie numerose, abbiamo infatti a Bologna in particolare ma anche a Gioia del Colle, sta andando veramente molto bene. Penso anche di prossime aperture. Abbiamo anche qualche progetto di prossime aperture, sicuramente. Parlava di progetti di chi magari meno fortunato, che sostegna questo film che racconta la storia di Cefa, di Bersani presentato nei giorni scorsi a Bologna, pensiamo all'attami, lavoro fatto anche con gli ospedali di Bologna, perché tanti progetti che alla fine, anche questo la cooperazione, come poi tutti, tanti imprenditori, devono poi restituire in qualche modo anche situazioni di successo, perché comunque parliamo di una storia di successo, di una ruolo. Beh sì, noi sentiamo intanto la coerenza con la nostra matrice cooperativa, cioè noi nasciamo, a me piace sempre ricordarlo, quando 65 anni fa nacque la cooperativa, veramente un manipolo di pochi mezzadri decise di intraprendere questa strada, fu una scelta di grande dignità per quanto riguarda la vita di quel mondo agricolo, di quelle famiglie che soffrivano in un rapporto squilibrato tra proprietario della terra e il lavoro della mezzadria. Si trovò, si decisò di creare un nucleo di autonomia. Poi il progetto è andato molto bene, evidentemente oggi noi siamo la seconda azienda del settore a livello italiano, la prima a capitale italiano, quindi sicuramente molto a di sopra delle aspettative anche di quei coloni, di quei mezzadri, però noi abbiamo il dovere di mantenere i principi di mutualità e di solidarietà, che sono principi cooperativi, però mi si consente di dire ormai, insomma credo che siano principi universali se posso dire, quindi questo territorio che ci ha dato, che ci ha consentito di crescere e che ci ha consentito di diventare appunto leader a livello nazionale e oggi anche un player importante a livello internazionale, per noi merita l'attenzione che merita. ma non solo questo territorio, perché poi noi siamo insediati in tanti territori e quindi iniziative analoghe le abbiamo un po' in diverse città d'Italia. Qui ci piace ricordare appunto all'Atami che abbiamo festeggiato proprio dieci anni qualche giorno fa, è un progetto fantastico dove mettiamo insieme, in questo caso sì, la solidarietà dei singoli, le mamme che quando possono mettono a disposizione il latte in eccesso rispetto al proprio bambino ed è, io penso, un gesto di grande solidarietà perché voi sapete tutti quanto sia importante il rapporto con il proprio figlio e quindi di togliere, che non è togliere, ma insomma dare una mano anche a un altro bambino nel momento in cui stai lattando il tuo è un gesto di grande amore, di grande generosità sapendo che ci sono bambini che nascono prima del tempo, quindi la maternità del Policlinico ha messo in piedi questa catena dove noi siamo tra chi dona, le mamme, e chi ha bisogno, i bambini nati e prematuri in mezzo ovviamente la direzione scientifica del Politecnico e noi che facciamo il nostro mestiere raccogliamo il latte e consumiamo il latte ci piace veramente tanto perché in questi anni, devo dire, i numeri sono stati molto importanti e aver contribuito a migliorare le condizioni di vita di quei bambini, in alcuni casi anche a salvare la vita e a creare un momento di serenità in più in quelle famiglie e avvicinare chi dà e chi riceve, perché poi la festa di Allatemi è questo con un'associazione di mamme che si sono messe insieme come spesso succede in questa terra, che quando c'è un problema la gente si mette insieme qualcosa organizza, hanno dato vita un'associazione che ci chiama Il Cucciolo quindi ospedale, mamme, l'associazione dei volontari, la Granarolo altri volontari che ci aiutano per fare la distribuzione, l'Hauser, la Croce Rossa insomma, abbiamo creato, ci piace stare all'interno di questo Senta Presidente, l'ultima domanda, il domandone, non solo come Presidente di Granarolo ma ricordiamo che lei ricopre anche Presidente delle Fiere di Bologna questo 2023, dobbiamo davvero preoccuparci così tanto stiamo un po' esagerando, anche noi dei medi, anche noi giornalisti dobbiamo rivedere alcune cose, come diceva lei, da queste situazioni di crisi poi ognuno sta imparando perché stiamo tutti spegnendo la lampadina più in casa e ci rendiamo conto che la casa è la casa, abbiamo un maglione di più quindi diciamo, come la vede? Beh, il 2023 sicuramente da un lato probabilmente non ci riserverà più delle sorprese perché è già capitato tutto, no? e quindi non dovrebbe capitare niente di peggio è che chiaramente arriviamo un po' stanchi e non abbiamo, come dire, la certezza di un'uscita io credo che prima o poi, anche con il coinvolgimento, l'intervento insomma nel sistema internazionale dovranno, in quei paesi dovranno ricostruire un clima di pace non sarà una cosa così semplice ma dovrà capitare e quindi ripristinare anche un po' le condizioni perché noi abbiamo creato un mondo, un'economia internazionale dove lo scambio delle merci e delle persone era fondamentale perché noi importiamo il gas e esportiamo il parmigiano reggiano ma se questa cosa si interrompe, il parmigiano reggiano ma vale anche per i prodotti della malifattura, no? questa cosa non regge più per nessuno per cui il 2023 sicuramente sarà ancora un anno che immaginiamo non facile da superare probabilmente è nel 2023 che cominceremo a capire come se ne viene fuori nel 2022 stavamo andando dentro il buco probabilmente dobbiamo sperare che nel 2023 si cominci a vedere da che parte uscire in che modo uscire non usciremo esattamente non avremo più il gas che non costa niente non avremo più la soglia che costa molto poco non avremo più il latte che costa poco dovranno fare delle scelte però sicuramente abbiamo imparato dovremmo imparare ancora di più io poi penso che per fare impresa bisogna sempre avere una fiamma di ottimismo perché se no non ci si alzerebbe la mattina quindi bisogna affrontarlo un po' così ci vuole molta consapevolezza credo che bisogna dare una mano che è più in difficoltà quindi le politiche oggi devono andare in quella direzione di tenere conto che c'è gente che fa veramente fatica e nei confronti di questi bisogna davvero aprire un po' la borsa della solidarietà e poi un po' vedere che il sistema economico regga perché se regge il sistema economico regge il lavoro se regge il lavoro reggono le famiglie e poi tutto è virtuoso se cominciamo una spirale inversa è sicuramente più quindi io dico preoccuparsi sicuramente sì ma come dico spesso oltre che preoccuparci delle cose ci dobbiamo occupare quindi proviamo a occuparci un po' delle cose da fare allora grazie a Giampiero Calzonari Presidente di Canarolo grazie di averci ospitato nella sala ottagonale Obeia torna come sempre tutti i mercoledì sera alle 22 sul canale 14 in tutte le media romagna e a Tede Romagna su tvbologna.it online poi la potete rivedere anche a Un Demand grazie davvero buon Natale altrettanto auguri a tutti e buon Natale a tutti voi che ci avete seguito noi torniamo puntualmente mercoledì prossimo grazie grazie a tutti